Dami che devo fare lo spring? Certo Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo... Bravo! Bravo! Benvenuti in un nuovo video, grazie! Demonetizzato Oggi faremo un video un po' particolare, ho degli ospiti speciali che vedrete tra poco Uno di voi deve venire qua e farmi un gioco di magia E io impersonificherò, si dice così no? Impersonificherò lo spettatore... St***o Lo spettatore cattivo E cercherò di fare di tutto pur di romperli E voglio vedere come loro reagiscono alla cosa, come sistemano il gioco Insomma, cosa fare quando uno spettatore ti rompe le balle E io sarò il classico spettatore rompiballe, siete pronti? Sì, signor capitano Grazie! Primo sfidante, Red Che lui usa il gimmick anche con gli spettatori str***o Non mentirò indietro Ok, sei pronto? Sì Allora, io ti spiego come faccio una magia quando sono fuori casa e non ho un mazzo tascabile Cioè, faccio fatica e muoio Ma perché devi portarti dietro un mazzo di carta? Appunto, quando posso portarmi un pezzo di carta E perché giri con questa cosa? Posso controllarla? Posso vedere? Sì, sì, sì Ok Eh, voglio controllarla Ok, allora, è un pezzo di carta È un pezzo di carta? Sì Mi fido di te? Cioè, fida Io non mi fido se giusto No, ma dopo te lo do Dopo me lo dai da controllare Va bene, allora poi ci sto E ti spiego perché uso questa custodia Sì Perché mi basta davvero un attimo e così si trasforma in una custodia Perché io Sì Ho solo una custodia Ma non me ne faccio nulla di una custodia Ok, va bene Quindi io la chiudo Sì E non potevo chiuderla io No E quando si chiacchia quelle dita Sì Mi usce un mazzo di carte No, bello Figo Però a me saranno in particolare quattro carte Sì Sono i quattro re Quindi mescolo le carte Perché quattro re? Perché mi piacciono i quattro re A me non piacciono Io voglio scegliere gli altri Ma il mago sono io Ok Oh, è bello Figo Mi è piaciuto Mi è piaciuto Guarda, di questi quattro re Di questi quattro re Mi giro solo uno a faccia in alto Ok, posso girarlo io? Ah, va bene Ok, posso girarlo Lo giro a faccia in alto Perché faccia in alto? Giro un re a faccia in alto Ok Hai visto che ho girato un re a faccia in alto Hai visto che ho girato un re? Che re è questo? È il re di picche Ma posso toccare? Tocca, tocca Ok, perfetto Ti piace Beh, sì Mi stanno chiamando Ti stanno chiamando? Risponditi C'è uno spettatore st***o Cioè non devo fare la magia, mamma Quindi siamo arrivati al punto che ho girato un re E tu hai visto che l'ho girato È il re di picche Ok È il re di picche Va bene Allo stesso modo Se io lo giro ancora Tu hai visto che l'ho girato? Sì Ogni volta che giro un re Tu vedi che lo giro? Sì No Eppure uno si è girato a faccia in basso Eh Lo rifaccio Con lo spettatore st***o si stupisce di solito Esatto Ma anche lo spettatore st***o fa lo schiacchettare di te No, posso farlo veramente anch'io? E così un altro re si gira a faccia in basso Che bello Due re a faccia in basso Due re a faccia in basso, è vero? Ancora E ora siamo a tre re a faccia in basso E siamo con un solo re affascinato Sì E sono solo un re di picche Sì E anche quest'ultimo lo farei te Come lo faccio io? Posso metterlo in mezzo io? Sì Spingi Posso metterlo dove voglio? Sì Va bene qui? O vuoi cambiare? Va bene No, voglio cambiare posto Voglio metterlo Voglio metterlo qua Ok Ok, va bene Va bene Schiocco le dite Sì E anche l'ultimo re No Però basta girarmi una faccia in alto Sì Così tutti quanti lo seguono Che vanno tutti a faccia in alto Bello Bello Anche lo sfidatore st***o in questo caso si sarebbe stupito Grazie Ho fatto abbastanza lo st***o? No No dai, c'è di peggio Fai peggio con me Con Heide fai peggio Esatto Secondo sfidante Heide Magician Ciao Heide Ciao Jack, è grande No, scusate qua Io sono lo spettatore st***o Mi hanno detto che sei st***o Sì Allora, guarda Nobile Oggi faremo un gioco con un mazzo di carte Va bene Con uno scimmazzo di carte Posso controllarlo? Certo, certo Posso controllarlo? Posso controllare? Sì Anche perché È truccato? No, è un mazzo normalissimo Ok E sai cosa? Lo terai in mano tu Sono lo spettatore st***o Ma poi uccidermi così Vabbè Dovrai andare a prendere 8 carte all'interno del mazzo 8? Perché 8? Proprio 8 carte Perché ce ne serviranno 4 di un colore e 4 di un altro Ah, ok Per il gioco Ok Posso sceglierle io? Ti dico Io di solito Sceglierlo 6 e 7 Va bene Perché sono carte che si vedono bene Sì Ti va bene? Va bene E prenderle A prendere tutti i 6 e i 7 Tutti i 6 e i 7 Tipo questo è un 7 Sì, questo è un 7 E anche questo è un 7 Esatto Un 6 Sì Un altro 6 Tieni sempre il mazzo di mano tu così Sì Sette E se volessi un 9? Vuoi un 9? No, ormai ho tirato fuori questi Come vuoi? Eh, mi ha inciso l'aspettatore No, va bene Se vuoi puoi prendere anche un 9 o un 8 No, va bene, guarda Anche se già separati Ah, perfetto Guarda, ma lo lasciamo qua Sì Ti spiego come funziona questo gioco E perché ci servono 4 carte E lo sai 4 carte nere Perché andremo a fare quello che in magia viene chiamato acqua e olio Ok Tu sai come funziona l'acqua e olio? Eh, sì, quello è che metti l'olio Metti l'acqua Esatto Funziona così Non sono abbastanza s*****o Mi stai togliendo tutte le cose Per cui puoi essere s*****o Sì, sì Come con l'acqua e olio? Posso controllare queste carte? È tutto controllabile È il gioco perfetto È il gioco perfetto Come con l'acqua e olio Sì Io divido le carte rosse e le carte nere Sì Ok E le vado ad intrecciare tra di loro Quindi rossa, nera, rossa, nera Posso intrecciarle io? Sì Rossa, nera Se vuoi squadra anche tu il mazzo E schiocchi le dita Schiocca tu Aspettiamo un pochino E le rosse e nere si dividono Non è possibile Guarda tu, tocca tu Le prendo io Posso toccarle? Sì, sì, sì Guarda se sono divise Sono divise Però aspetta Tu da spettatore s*****o Puoi dirmi Sì Che in questo momento Tu non le hai viste Perché È vero, non le ho viste Io non le ho viste Mentre io le intrecciavo Esatto Mentre le intrecciavo Sì No, le ho viste Ti faccio proprio vedere che si intrecciano Vedi? Ma non può essere Sì, sì, sì Si intrecciano tutte Fino alla fine Sguarda tu, squadra tu Veramente? Sguarda, squadra Ti faccio vedere lentamente Sono otto carte Non è che aggiungo carte Te ne faccio vedere meno 1, 2, 3 Ma sono intrecciate? Sono mescolate 4, 5 5, 6, 7, 8 Squadra, squadra Prendi tu le carte Si chiocca le dita Le nere Si dividono dalle rosse Ma accetta però Perché Per non finire qua Siccome abbiamo aspettato Tanto tempo Dal gioco Non si sono separate Solo queste carte Che tu hai sempre avuto qua Sotto controllo Ma si sono separate Anche le carte Che sono sempre state qua E che tu non le hai mai toccate Non le ho mai toccato Ok Prendi tu il mazzo Scordila E si dividono le rosse Dalle mie Ma basta Va bene Bravo 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 Questo è perfetto È perfetto per i spettatori Sì Proprio mi ha pulita lato Non sapevo cosa dire Prossimo sfidante Federico Vai Fede Io sono spettatore Posso mescolare Degia io Cioè mi proprio Mi stai distruggendo I sogni Posso controllare La azione normale È tuo È mio Mescolo Posso controllare Tutte quante le carte Sono Ok Io odio i maghi Io odio i maghi Quindi io la magia Non la sopporto Va bene Che cosa devo fare? Allora Dato che sei st***o Sì Non ti faccio un gioco Cosa mi fai? Cioè non ti faccio un gioco Io ci diria Ma ti faccio un gioco di carte Va bene Va bene Mi spieghi ad un gioco? Sì Vinco io Vabbè Se giocare a poker Sì All'italiana Sì Con quante carte si gioca? Cinque Cinque no? Allora metti cinque carte sul tavolo Quelle che voglio? Quelle che vuoi A faccia in alto Sul tavolo Allora le scelgo io Vai E dato che vinco Come vuoi Dopo anche per me Tre Quattro cinque Sì Anzi Un asso E anche per te Per me vai cinque carte Per te metto le più brutte Grazie Quattro E cinque E cinque Ok E queste Sai come si gioca in Thailandia? Queste Cosa faccio con queste? Con sette carte si gioca in Thailandia a poker Perché? Non mi interessa come si gioca in Thailandia Allora prendi sette carte per te Questi arrabbi Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Va bene Anche per me vai Anche per me Ok Tre Quattro Cinque Sei Sette Ok Metti pure via lo resto del masso Ok Prendi queste carte qui Queste Ok vabbè Allora io prendo le tue Va bene Va bene Ok Allora mescola 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 Come voglio Vediamo se riesci a vincere questo gioco Devo Ora quando vuoi ti fermi E guardi la carta che ti è capitata sotto Ok Ah sotto Sì Rimescolo Se vuoi rimescola Fatto mi piace Quella è la tua carta vincente Te la ricordi? Sì Sarò vedere se vuoi Ok Io ho questa Vediamo chi vince dopo Ok Adesso queste le appoggi sopra Va bene Ora Dimmi un numero No scusa Sì Tra il due o il tre Perché Poca scelta Eh sì Perché di sì Io voglio il quattro Il quattro Il quattro va bene Però per la finiti va bene Per il gran finale Per il gran finale va bene il quattro Adesso posso scelgo il due Due? Allora prendi il mazzo in mano Sì Vai e fai due pile Uno o due Due pile? E posso iniziare come voglio? Vai così Continua ad andare Senza fermare Perfetto Adesso prendi Una delle due Quella che voglio Sì Ok Voglio questa E la metti O sopra o sotto Posso scegliere? Sì E se vuoi puoi anche girarla Così? Sì È il tuo sogno questo Cacchio Io la metto sotto invece Ok E adesso Dato che hai detto due Eh Allora c'è il tre C'è il tre? Vabbè dai Adesso quindi tre pile Vai così Tre pile? Ma sono tutte mescolate Eh non importa Ok Adesso ne prendi una Quella che vuoi Io prendo questa per esempio Sì La puoi mettere sopra Quella che vuoi O sotto quella che vuoi E puoi anche girarla Succede te Ok Poi ne prendi un'altra Delle due Quella che vuoi E la metti sopra o sotto Io la metto sopra Senza girarla E o sotto Ok Adesso guarda Prendi il mazzo in mano Fatto Prendi le prime due carte Sì E le gira al contrario Ok Quindi sei d'accordo con me Che se qui c'era la tua carta fortunata E' stata girata E' stata girata E anche taglia Per dove voglio Come vuoi Così Perfetto Vuoi ancora girare due carte? Sì Voglio venire le prime due Sì E girarle al contrario E se vuoi ritaglia Mi racchia proprio bene Sto uccidendo questo gioco Ok Sì Adesso fai un ventaglio insieme a me Sì Sei d'accordo con me Che se qua ci sono carte girate Sì Pronto Ci sono girate anche qua Che gioco di me No Sto scherzando Finisce così Ah ok Vediamo chi vince tra i due Sì Ok Rimetti a posto Sì Per il gran finale Che numero avevi detto? Quattro Allora ti accontento Facciamo uno Due Tre E quattro Quattro mazze Due Tre Grazie che mi accontenti Tre Quattro Tranquillo Sì Sempre per te disponibile Grazie gentilissimo Ultima cosa Sì Sai come funziona una palla di neve no? Se cade Sì 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 Rotola Rotola Vai Palla anche testa Ah devo farla anch'io Palla di neve Mi piace questa cosa Perché creiamo un casino Così E così Fatto Ora Vediamo chi vince Gira una zetta faccia in alto Sì Te la ricordi la carta vincente? Sì In realtà Ti ho mentito però Perché? Perché non è un gioco di carte È un gioco di magia Era una scusa per farti il mio gioco preferito Dalla questa cosa mi piace Il triunfo Sì Sai come funziona un triunfo? Non mi esco di carte Facci in alto Facci in basso L'abbiamo fatto noi Fissi una carta Sì In questo caso te l'ho spacciata come la carta vincente Ma era la tua carta scelta Era la mia carta scelta Te la ricordi? Sì Pronto? Passa la mano sopra il mazzo Schiacca le di te Guarda Al mio tre Sì Uno Due Tre Si riordino tranne una Che bello Era il tre di picche Il mio due di quadri Vai Bravissimo Questo spacca gli spettatori str***i È stato apposta Bellissimo Grande fede Mi è piaciuto di brutto Questo è proprio top È WD Oregon no? Sì Tanta roba Ok prossimo sfidante E qua sono ultra str***i Jacopino Parisco Jacopino Sei pronto? Io sarò uno spettatore terribile con te Terribile? Però mi stai antipatico Allora Ti faccio un gioco con le carte Cosa stai facendo? Cosa sto facendo? Sto mescolando No voglio mescolarlo io In modo scientifico Cosa vuol dire scientifico? Non si possono mescolare le carte In modo scientifico? Certo si può Che cosa vuol dire? Vabbè Nel senso Non rompere e mescolare Come dici così allo spettatore no? Per rompere le palle E adesso? E adesso è mescolato o sei contento? No non sono contento Perché io ti volevo spiegare il gioco? Non sono contento Ma ti volevo spiegare il gioco? Perché mi vuoi spiegare il gioco? Eh eh perché questo gioco funziona così Te lo spiego Ah ok me lo spiego Cioè almeno non mi roppi Ah va bene va bene Allora ti spiego Per fare un gioco di questo gioco di magia Sì Va scelta una carta Va scelta una carta E non maghi no? La facciamo scegliere a caso Sì Però poi ci inventiamo le scuse Eh perché? Dimmi un numero Eh Almeno quale gente conta Capito? Dimmi un numero Eh il 12 13 12 Conta il 13 12 12 o 13 Quanto vuole 13 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 No Guarda la tredicesima No voglio la quattordicesima Vuoi la quattordicesima Ok Guardate la t***a In serio? Sei sicuro? Al 100% 100% Mettila dove vuoi Mi ha detto mettila dove voglio Jacopo che fa un gioco dove mi dice mettila la carta dove vuoi Messa Ha sbagliato Ha sbagliato? Messa? Sì Non è già Mescola Me lo sto rispondendo Sto spiando tantissimo Guarda Fatto Eh ti avevo detto che ti stavo spiegando il gioco Ah ok Allora quando ho detto chi la carta cosa succede? Eh la tocco E quindi? La tocco Rimane la tua impronta digitale Ah Anche la tua Guarda Guarda Eh Vedi Questa è tipo la mia impronta Eh Si vede? Eh Mi riesco a vederla No C'è anche il faretto guarda Non la vedo Non la vedo Eh perfetto Cioè nel senso Stelle scorri Sì Questa è la mia No Io non la vedo Vedi? Non la vedo Queste sicuramente sono tutte impronte mie vecchio Dici Filti Eh Non c'è tua Non ci sono impronte tue Ok Questa Sembra tua No No non è mia Vedi? Stai già imparando Eh sì Dici che è tua Scorro Eh Non capisco Eh sto controllando Ah stai controllando le impronte Eh sì Ah Cioè sono mago nesto Te lo devo dire Mago lesto? Sono mago nesto Spara lesto Ce l'ho No Sì Cosa? Ma perché? Non è quella Non so Includo sempre questo Come no? No Però lo sveglia Eh Eccolo Eeeh Inpronto Adesso di fiore Eeeh Eeeh Va bene va bene dai Prendi una carta Prendo quella che voglio io Questa Guardale guarda Questa qua Presa Presa Guardala Faccio vedere Faccio vedere Ok Fai una cosa Fermami dove vuoi Eeeh Qua Qua No una dopo Una dopo Sì Qui va bene La vuoi lasciar qui Voglio rimetterla qua Vuoi rimetterla qui Posso rimetterla qua Rimettila dove vuoi Vai vai rimettila La rimetto qua Qui Sicuro del centro No voglio metterla qua Mettila lì Messa qua Vai mettila lì Chiudi Va bene qui Abbastanza Lo vuoi più nel centro No va bene lì Va bene in quel punto Sì Perché hai tagliato Lo stai mescolando Perché Vuoi mescolare te Sì Sicuro Sì Cento per cento Cento per cento Mescola A modo Sì Vai vai Mescola Mescolato Ho sentito il talk Bello Una bella cosa È un'idea È un'idea Ora Sei un mago È sette di cuori Bella Per uscirsene Questa è perfetta Questo è un metodo Efficacissimo Cioè quindi Praticamente Tu cosa fai Quando lui dice Voglio rimetterla qua No voglio rimetterla qua Tu guardi l'ultima Giusto Eh ora non ho fatto così Ora ho fatto una roba diversa Ma cosa possiamo dire Possiamo dirla Si può dire Si può dire Si può dire Cioè Te mi hai tagliato Alza Rifatelo prima Io voglio rimetterla Tipo qua Rimettela Come l'avevi messa Hai messo così Guarda cosa ho fatto io Chiudi 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 Ah Ho buttato indietro Così poi l'ho chiuso L'ho fatto vedere di lato Ma qui nel centro Ho ripreso il break Sulla carta giusta Quindi ho tagliato Bella questa mossa Hai visto? Geniale Quando sei in difficoltà Quando sei in difficoltà Lo spettatore dice No voglio rimetterla Tipo qua Voglio rimetterla qua Tu fai Chiudi Chiudi E spingi indietro Lascia scivolare un po' Niente Tac Tac E tieni la separazione Con la carta qua E poi dopo taglia La carta scelta Ma io lo uso da una vita Non sono in me E poi Eh lo so Taglia dove Cioè taglia dove vuoi Un'altra cosa interessante Alza Alza Vai Quando la rimette La cosa bella È che quando richiude Chiudi Chiudi Sei La carta va indietro Sì sì così è esagerato Ovviamente Prima non l'ho neanche notato Lo so Bella Come idea Un'altra cosa figa da fare Quando c'è lo spettatore Vuol fare tutto lui È fargli credere Che abbia lui La gestione Della situazione È vero Quindi fa così Magari hai fatto già Uno o due giochi Dove fai scegliere una carta Sì sì Come lì La fai vedere La fai scegliere Invece Ribalti la situazione Cioè fai così Magari quello Rompeva durante i giochi Prima E fai Tieni il mazzo Prendi una carta Anzi fai una cosa Fai il mago Falla pescare a lui È bella come cosa Pesca una carta Pesca una carta Io sono lo spettatore Ok 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 Prendila Ok guardala E poi li fai Prendi Sì E fermami dove vuoi Stop Rimettiti la carta Dato siete il mago Bellissimo Bello E tu hai il controllo Ovviamente Ora hai il controllo Del gioco Però l'idea È che lui Che ha preso la tua posizione No Bello Ovviamente lo freghi Perché lui non riesce a capire Cioè poi ti metti Quel che vuoi Però l'idea Bello bello Ok grazie Jack Ragazzi Allora volevo dire una cosa In questo video Probabilmente alcune cose Ci saranno viste Alcune cose ci saranno Capite Ma non era il centro del video Molti che seguono questo canale Sicuramente avranno capito Le tecniche Si sarà visto il trucco Ma non era il punto del video Il punto del video era Come gestire lo spettatore Tra virgolette Cattivo E in questo video avete Diverse idee Di cosa fare E di cosa non fare Perché per esempio I giochi che ha fatto Red Ma lo sa Non sono l'ideale Per questo tipo di spettatore Abbiamo voluto creare Tutte quante le situazioni Dove In una situazione Si vedeva il gimmick E così avete lo spunto Di cosa non fare E nell'altra situazione Hyde toglie completamente Ogni cosa che lo spettatore Potrebbe dire Fede pone come sfida Il gioco E poi lo trasforma in magia Molto bella E poi Yak ti fa vedere Quando sbagli Come recuperare Ok Con la carta impalmata Con la carta che appare Di qua Di là Insomma delle piccole idee Quindi in questo video Abbiamo racchiuso Tutte quante le idee Di cosa fare E di cosa non fare Con uno spettatore Come me Non voglio vedere commenti Oh mio dio Ho visto come ho fatto Perché l'abbiamo fatto apposta Per farvi capire Il messaggio Ok Spero che capiate questo Quindi ragazzi Queste erano delle piccole idee Proprio molto improvvisate Però molto carina Come cosa Di cosa fare Quando c'è uno spettatore Tra virgolette Quindi spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ringrazio per averlo visto Ringrazio ID, Yak, Fede Fred Prego Prego Bravi Bravo Bravo E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi